Ciao ragazzi sono CenoCakuna ed oggi siamo qua tornati con un nuovo video in Minecraft per mostrarvi oggi ben 5 banders di cibi in gioco Ma come sempre prima di iniziare col video vi consiglio di mettere like a quest'ultimo, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche per non parlarvi in nessun prossimo video Ma detto questo ragazzi bebo una visione Inizieremo subito col primo banders che sarà basato su una pannocchia Ovviamente come basta utilizzeremo uno standardo di colore verde scuro per poi piazzarlo al lato di Minecraft in table e in seguito al centro mettere ben 3 tinte di colore verde lime Ecco ragazzi così da venirci una cosa del genere imparati con uno standardo con al centro una linea verde, verde chiara Ora praticamente lo ripiazzeremo e metteremo ben 3 tinte di colore giallo però questa volta in senso a forma di rombo Ecco ragazzi ora praticamente lo ripiazzeremo però questa volta verso il basso e praticamente metteremo altre 3 tinte di colore giallo però questa volta in senso triangolare al contrario Ecco ora praticamente riposteremo tutti e 3 le tinte nell'inventario, perfetto Lo piazzeremo per l'ennesima volta e ora praticamente metteremo sempre sotto una tinta di colore azzurro e dall'altra parte una liana Ecco ragazzi in pratica la nostra pagnotta è quasi completa Come ultima cosa dovremmo solamente aggiungere altre 3 tinte di colore giallo Sempre ovviamente anzi scusate 3 tinte di colore verde lime ovviamente sempre in senso triangolare al contrario Ecco fatto e in pratica la nostra pagnotta è totalmente completa Inoltre l'aspetto estetico e anche il design è molto figo e molto bello da vedere Ora passeremo alla creazione del secondo Banders che consisterà in una ciotola di riso Infatti noi per fare ciò faremo uso di uno standardo grigio e dopodiché noi accanto ci metteremo della frina nostra Per poi ragazzi venirci una sorta di cerchio al centro Dopodiché noi li piazzeremo sopra e dopodiché sotto metteremo delle fai di cacao Ovviamente in questa maniera Ecco fatto ragazzi le riposteremo subito nel nostro inventario Ecco ora praticamente ripiazzeremo l'harmostand Ovviamente in questo senso ovvero qua ragazzi sempre a lato E ora praticamente metteremo un'aliana e dopodiché noi accanto della tinte di colore grigio chiaro Perfetto Praticamente lo ripiazzeremo sempre dentro la crafting table Ecco ragazzi infatti come vedete qua già la ciotola di riso sta prendendo forma E praticamente sotto noi metteremo Eh anzi scusate ragazzi praticamente subito È una cosa ovvero noi mi metteremo sopra Ecco Praticamente lo piazzeremo al centro Ecco ragazzi E in pratica la nostra ciotola di riso è totalmente completa Infatti in effetti è veramente molto figo da vedere È anche secondo me l'ideale come manifesto per un ristorante Ora passeremo col terzo banner Che in pratica consisterà nel creare una fetta di anguria Per fare ciò infatti noi faremo uso di ben tre tinte che sarà il rosso Il verde lime ed in seguito ragazzi il colore rosa Innanzitutto ovviamente piazzeremo il nostro sendarlo di colore rosso al centro Per poi ovviamente piazzare Anzi mettere ben tre tinte di colore lime in senso di rombo Anzi scusate a forma di rombo Ora sopra metteremo una tinta di colore rosa Ecco ragazzi in questo modo Perfetto E praticamente come ultima cosa noi Eh Praticamente lo rimetteremo però questa volta nel centro E dopodiché sotto piazzeremo Anzi metteremo ben tre tinte di colore rosso Perfetto ragazzi Ora come ultimo step in pratica Lo rimetteremo sempre al centro Per poi sopra Metterci ben tre tinte di colore rosso E in senso angolare Ecco ragazzi In pratica la nostra fetta di anguria è completa Ora passeremo col quarto e penultimo standardo Il quarto standardo si baserà su un ananas Infatti noi per fare ciò faremo uso di uno standardo di colore arancione Per poi ragazzi metterlo a lato E in seguito nel centro metteremo un mattone E dopodiché sotto nella tinta di colore giallo Perfetto Ora lo ripiazzeremo verso il basso in questo modo Per poi sopra mettere ben sei tinture di colore ciano Ecco ragazzi E in pratica ci verrà una cosa del genere Dopodiché noi prenderemo il bundle E in seguito raccoglieremo tutte le tinture Per ovviamente ripiazzarlo questa volta Verso il lato Ecco E praticamente noi ora sotto metteremo Una tintura di colore verde lime E al centro una margherita Ecco infatti come vedete qua Già l'ananas sta prendendo forma E ora noi come ultimo step Praticamente lo ripiazzeremo sempre nella crafting table Ecco ovviamente anche posando questa La cosa precedente Perfetto Praticamente noi ripiazzeremo Ecco ragazzi Questa volta però Nella posizione ovvero in pratica Al centro E ora praticamente Anzi al lato scusate E ora praticamente nel centro Metteremo un altro Un'altra tintura di colore verde lime E ora praticamente lo ripiazzeremo Per l'ultima volta Sempre al lato E ora sotto metteremo Una tintura di colore ciano E al centro una riana E in pratica ragazzi Beh ovviamente il nostro ananas Totalmente completo L'ultimo bundle Che esteticamente è molto carino Praticamente consisterà E crea una sorta di cono gelato Infatti noi per fare ciò Faremo uso di uno standardo Di colore azzurro Per piazzarlo al centro E dopodiché noi Ai lati Metteremo ben 4 file di cacao A forma di rombo Perfetto Ora praticamente Non lo ripiazzeremo Però questa volta Metteremo ben 4 tinture Di colore arancione Ecco Successivamente Faremo uso E la tintura di colore rosa Ovviamente piazzandone Anzi mettendone Ben 3 sopra I bunders Ecco ragazzi Ora sopra Noi metteremo Ben 6 tinture di colore azzurro Ecco fatto ragazzi E ora praticamente Noi verso il basso Lo ripiazzeremo Per poi sopra Metterci Una tintura di colore rosa In questo modo Ecco Ovviamente lo piazzeremo Verso il basso Dopodiché noi Sopra metteremo La tintura Ora ripiazzando Ora ripiazzando Il nostro Bunders Al centro Praticamente Noi lo circonderemo Di almeno 9 tinture Di colore azzurro E in pratica Il nostro Condolo gelato Totalmente completo Secondo me Anche quest'ultima Ideale Come decorazione Anzi Manifesto Per una gelateria Che potrete creare Nel vostro mondo In spavimenza Oppure in creative Ebbene se ragazzi Come sempre Il video finisce qui Ovviamente Spero che vi sia Stato di gradimento Lasciate un bel like Iscrivetevi E commentate E in descrizione Come sempre Troverete la play Tutte le mie Fantasy Creazioni Che ho fatto finora Ma quindi Che posso dire Beh Ciao Alla prossima Gente